Il dottor Antonio Garpezzieri, Cultura e Historia di Alcane. Grazie. E' un'eserciata che stiamo svolgendo da anni con Stefano. Ogni volta ci portano a delle novità. Ogni volta ci portano a nuove osservazioni, ogni volta ci portano a nuove scoperte. In questo caso, l'Iroldi è un posto impressionista, il principale protagonista del posto impressionismo napoletano, italiano, in generale. Napoli, Napoli, alla fine Stefano, tutte le nostre ricerche, non dopo la maggior parte, ma anche questa, alla fine Angelo ci portano a Napoli. Cioè, come se noi qua, la provincia di Avellino, in effetti, da tutti i statisti, ma sotto tanti altri portati, è una provincia di Napoli. Napoli, in questo rapporto con la provincia di Avellino, ultimamente è un poco, è un poco lontana da Avellino. Anche se abbiamo un buon servizio di trasporto pubblico, che ci collega con Napoli velocemente, fino alle 11 di setta, quasi una metropolitana, che ci porta a Napoli. Noi entriamo a Napoli e da Napoli possono venire a noi. Però è un po' lontana, lontana. Perché, pur se i napoletani, 80% dei napoletani, come da copri e maggio, nelle ultime ricerche, che pur se abbiamo facendo, bevono l'acqua di Avellino, l'acqua del semino, quindi loro ci alimentano. L'acqua sappiamo quando è importante, no? che era un essere umano. E però prendono quest'acqua e ci danno, diciamoci la verità, dal punto di vista culturale, organizzativo, è un momento molto poco. Però noi continuiamo, cerciamo di avere contatti, di discutere con loro, con una intelligenza napoletana, che è molto forte, nel proprio culturale, con i vari punti di arte di Napoli, e dall'ultimo incontro che abbiamo fatto, con tante difficoltà organizzative, ma alla fine poi è riuscendo molto bene, l'ultimo incontro che abbiamo fatto, prima di Natale, c'erano, c'erano, ci sono stati degli spunti di partenza per parlare di questo ironico, di questo, questo grande, ha avuto una grandissima protezione, una protezione quasi industriale, di opere d'arte, e parlando un po', analizzando un po' le sue varie cose, penso a Stefano, di sottoporti, poi le conoscioni, chiaramente sono sempre le due, di sottoporti, anche all'attenzione del dottor Lavorre, che è un appassionato di queste cose, ho fatto, un fatto importante, cioè che questo vittore, principalmente, ha fatto le sue cose più belle, dipingendo bambini, bambini di gironi, sono al centro, e anche questo quadro che ci sottopone Stefano, ci fa vedere Stefano, ci ha portato Stefano, grazie a Stefano, queste belle cose che ci fa vedere, guardando entrambi un po', che mi ha colpito, a parte il fatto del tachino, è il tachino, però il viso di questa bambina, il viso di questa bell'espressione, proprio il post impressionismo, è proprio questo, il post impressionismo, è proprio questo, il viso dei bambini, il viso di questa bambina, è quello, su quello che invito adesso, alla fine, quando vedrete, osserverete, e poi ognuno si fa le sue osservazioni, invito a centrare il vostro sguardo, su questa bellissima, nuove la parte, sul viso di questo bambino, chiaramente, poi lasciatevi fare, una riflessione, così, non passando, non è solo lui, non è solo lui, che ha fatto bellissimi quadri, il più bello quadro, forse, secondo un vino, parte della critica d'arte, il più bello quadro, i bambini, da citare, in questa riunione, questa sera, è quello di Pablo Picasso, il bambino, vestito da l'Adechino, una sera.